La lettera X X come xilitolo X come xilofono X come xrei X come xl X come xilitolo Così è troppo veloce! Proviamo a riniziare da capo! Cari bambini, conoscete la lettera X? X come xilofono X come xrei X come xl X come xilitolo X come xilofono X come xrei X come xl X come xilitolo X come xilofono Ora si andava bene! Vi siete divertiti anche voi a cantare con me? X come xilofono 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 Grazie a tutti.